Poi finirà Ragazzi siamo qua Allora che ne pensate di Fiorentina Juventus ieri? Grande Juve Fiorentina Cotta e mangiata Cotta e mangiata Diciamo che è stata cucinata la Fiorentina a fuoco lento Perché la Fiorentina se vuole Se dobbiamo cucinarla praticamente la carne Sempre ben cotta Si conferma la solita squadra di merda che è la Fiorentina Esatto Squadra mi ha fatto perdere due schedine Pezzi di merda Due schedine E poi giocano solo contro la Juventus questi E non ce la fanno neanche E non ce la fanno neanche Bernardeschi con l'ex Di solito Bernardeschi punizione pennellata Buffon aspetta la sotta Iguain si è bloccato Buffon è sempre determinante Iguain segna sempre Ma ragazzi Ma speriamo che stasera la Lazio su Luis Alberto segna Ma che cosa ne pensi? Io allora Lazio batte Napoli 2-1 Immobile Luis Alberto Tu? Immobile, immobile Ma stasera speriamo Come dicevano i romani Del Cesare Quel che è di Cesare Stasera speriamo che venga la Lazio 1-2 1-2 Luis Alberto Perché ragazzi è normale Noi ci meritiamo il primo posto Luis Alberto e lei va Ci meritiamo il primo posto Abbiamo vinto due volte Col Chievo Col Verona Col Cagliari Tutti i campi difficili A Firenze Chi se lo merita lo scudetto? Noi ce lo meritiamo Noi Altro che rubiamo Forza Lazio Non rubiamo un cazzo Forza Lazio Forza Lazio stasera È sempre Forza Juve Fiorentina cotta e mangiata Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori